Guarda, te lo lascio, te lo lascio a te almeno se potete vedere. E non le devo fare tutto il video. Eh, ho capito, non è che se hai tene sulle mani. Vai. Ma ti riparli quando ti fai avuto, ecco lì. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti